buona giornata amici e con il canto del gallo iniziamo insieme la giornata qui a fanu tv con la rassegna stampa il canto del gallo non si senti più in città però insomma nell'immediata periferia ancora qualche canto al sorge del sole e il sole e sta per sorgere anzi è sorto tra da poco ancora si ode allora diamo subito un'occhiata al santo del giorno e vediamo chi si festeggia oggi e san gabriele della addolorata in realtà si tratta di francesco possenti nato ad assisi nel 1838 fece parte dei passionisti fondati da san paolo della croce con la loro regola e la loro devozione intendevano consolare la madonna per i dolori della passione di gesù francesco prese il nome di gabriele della dolorata riferendosi appunto alla madonna e condusse una vita umile e silenziosa morì a soli 24 anni di età questo è san gabriele della addolorata al secolo francesco possenti ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo come le condizioni atmosferiche evolveranno nella giornata di oggi i cieli oggi sono in realtà molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in temporaneo assorbimento però nel pomeriggio ma in ripresa nella serata quindi ci sarà un andamento altalenante nella giornata un po' di schiarite un po' di piogge e poi tempo nuvoloso sono previsti due millimetri di pioggia pioggia sacrosanta pioggia invocata in modo particolare dalle campagne dove il grano deve crescere vediamo anche che le temperature si aggirano tra i 10 e 14 gradi si è alzata di molto la minima il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 6.50 e tramonterà alle 17.50 questo per quanto riguarda le previsioni e allora possiamo mettere da parte appunto le condizioni del tempo e dare un'occhiata all'apertura dei giornali abbiamo qui il resto del Carlino e vediamo subito la pagina di Fano con l'apertura dedicata ad un argomento scolastico vediamo un attimo eccolo qua l'apertura della scuola è dedicata alla scuola media Nuti ci sono delle polemiche sollevate dai genitori di questa scuola perché? Perché come tradizione durante l'anno scolastico si effettuano delle gite però ci sono gite abbordabili dalle famiglie e altre gite che non lo sono una di queste viene considerata la gita proposta a Londra costa 1500 euro una settimana a Londra e tante famiglie danno forfè in titolo a oggi il resto delle Carlino proteste alla scuola Nuti per i viaggi di istruzione così si impedisce la partecipazione di tutti hanno detto quelle famiglie che non riescono a sostenere questa cifra la preside ha ribadito i costi sono sicuramente aumentati ma invito i genitori a confrontarsi con me insomma un confronto diretto un dialogo diretto tra la dirigente e le famiglie stesse io mia figlia non l'ho mandata a scuola non l'ho mandata in gita dice una mamma però purtroppo dispiaciuta per quanto è venuta pensate questa bambina che trova questa opportunità e purtroppo le condizioni della sua famiglia non le permettono di usufruire di questo viaggio se il principio di una scuola deve essere quello di essere inclusiva ha detto questa mamma e coinvolgere tutti in questo caso si sta procedendo in senso opposto verso l'esclusione non lo trovo giusto anche perché molte famiglie non sono in grado di reggere questi costi sono più numerosi quelli invece che hanno aderito ad un'altra proposta una proposta più accessibile quella di una gita in Spagna questa costa 700 euro e che confronto ai 1500 è una cifra più abbordabile e stessa cosa per la settimana bianca a Bardonecchia con tanto di schipasse pagato e noleggio degli sci insomma 700 euro si riesce più a farvi fronte rispetto ai 1500 nella classe di mio figlio dice un'altra mamma, una terza su 20 ragazzini presenti solamente in due hanno accettato di partecipare alla gita scolastica insomma due bambini su tutti gli altri è una cifra veramente risibile insomma polemiche questa è una situazione che comunque si ripete anche in altre scuole ci vorrebbe che queste iniziative che sono importanti perché il gito scolastico è solo un momento indimenticabile sia per la formazione che per la crescita di questi ragazzi per quanto riguarda la loro autonomia ma dovrebbero essere fatte in condizioni magari con un sostegno da parte del Ministero da parte dello Stato in condizioni in cui tutti debbano partecipare non ci dovrebbe essere nessuno escluso perché quel bambino che rimane fuori mentre tutti i compagni vanno in gita e beh veramente si sente veramente male va bene passiamo subito alle altre notizie e facciamo gli auguri a Don Luigi Spallacci Don Luigi Spallacci ha compiuto 90 anni ed è stato festeggiato con grande calore da tutti i suoi parocchiani da tutti gli amici da tutti coloro che l'hanno conosciuto in un pranzo che si è organizzato nella sede della cooperativa Tre Ponti in 300 a tavola per i 90 anni di Don Luigi forse in questi anni qualcosa ho seminato ha detto con tanta tanta modestia il sacerdote ed è stato fondatore della parrocchia di Santa Maria Goretti a Sant'Orso una parrocchia che ha retto per tanto tanto tempo festeggiato domenica alla cooperativa Tre Ponti Don Luigi si è occupato di Sant'Orso addirittura prima del 68 quando era con Don Achille Sanchioni nella chiesa di San Leonardo sono due figure di sacerdoti veramente ammirabili per il sacerdote quella di domenica è stata una giornata intensa iniziata con la celebrazione della messa alle 10 nella chiesa di Tre Ponti alle 11.15 a Santa Maria Goretti e poi al termine ha avuto il piacere di trattenersi a lungo con tutti i suoi fedeli con tutti i suoi amici con tutti i suoi parrocchiani che l'hanno festeggiato beh insomma questa è una bella notizia parliamo anche un po' di polemiche di carattere amministrativo perché c'è una nota da parte della Lega è stata firmata dal capogruppo consigliare Gianluca Ilari in merito all'utilizzo di quei rotoli di erba sintetica che erano stati prelevati dal campo sportivo del Vallato che è stato rimesso a nuovo e dovevano essere nell'ambito di un progetto interessante e di economia circolare dovrebbero essere riutilizzati da parte di quelle associazioni che ne avessero fatte richiesta ebbene è stato fatto un bando hanno partecipato 21 associazioni che desideravano appunto riempiegare questi rotoli ma dopo tanti mesi tutto è stato rimesso nel dimenticatoio non è stato fatto nulla insomma è stata un'iniziativa che è inerte rimasta così sul tappeto diciamo proprio non è riboso ma sul tappeto delle difficoltà amministrative insomma bisogna riprenderla questo è il senso della Lega bisogna far presto e non bisogna insomma deludere coloro che hanno fatto richiesta la mafia si annida anche qui nel nostro territorio occhio ad appalti e fondi pubblici lo dice il criminologo Musacchio che ha tenuto una conferenza a Colli al Metauro Musacchio fa nomi e cognomi insomma io passerei al setaccio ha detto Musacchio il settore delle false fatturazioni ancora secondo l'analisi del criminologo la mafia non si è radicata proprio nel nostro territorio però i suoi tentacoli da una parte all'altra nei settori edilizi nei settori della droga ovviamente insomma ha le sue mire e le sue prese di posizioni un incidente un incidente che si è verificato a Fano un fuoristrada un grave un 54enne è accaduto nell'autostrada A14 nel tratto compreso tra Senigallia e Marotta ha fatto tutto da solo è uscito fuoristrada si è ribaltato e vedete qui l'immagine della sua auto che si è fermata a ridosso in un campo appunto perché è uscito di strada il traffico sull'autostrada non ha subito problemi né rallentamenti l'incidente non ha causato problemi alla viabilità in quanto l'auto è finita in un campo al di là della corsia di emergenza ed ora parliamo della protesta che ha elevato il comitato di Sassonia Sud una protesta contro la proposta fatta da alcuni imprenditori che è stata esposta poi al resto del Carlino da Gian Bruno Auspici imprenditore della cantieristica di realizzare uno scaro d'alaggio per il valo dei grossi yacht che provengono appunto dalle zone industriali di Bellocchi dell'entroterra eccetera invece di passare per il viale Ruggeri lungo il viale Adriatico e arrivare al porto di Fano di fare uno scaro d'allaggio per il valo delle barche nella zona del Bersaglio cosa che viene ostacolata rifiutata dal comitato dei residenti che ha in mente tutt'altra cosa quella zona una zona ancora verde deve essere trasformata in un grande parco a servizio dei residenti ecco la nostra idea ha dichiarato il presidente del comitato stesso e ve lo vediamo qui in questo schema adesso qui non è facile leggerlo tramite il video ma sul giornale si vede benissimo l'intento è quello di costruire un hub di quartiere un centro per eventi all'aperto e a fruizione estiva e poi un percorso della salute un percorso con attrezzi fruibile sui 12 mesi d'estate e d'inverno e poi uno sgambatoio per i cani che non può mancare un'area ristoro con una pineta ecco l'area ristoro della pineta dovrebbe essere questa con una diagonale che attraversa tutta l'area e poi la zona dedicata al circolo nautico con un piccolo piccolo scalodo all'angelo per imbarcazioni a vela quelle da di porto insomma non sono i grandi gli yacht e poi abbiamo ancora la pista ciclabile piste pedonali insomma tutta una zona verde a servizio del turismo anche perché poi le spagge libere di Viale Ruggeri sono qui proprio a due passi e anche ai residenti del quartiere e poi abbiamo una replica della residente di Montegiove la signora Rossi che poi è anche assessore alla sanità del comune di Monbaroccio la signora Rossi aveva così fatto un'istanza al comune dicendo guardate che a Montegiove ci sono delle piante pericolanti e possono cadere sulle persone che passano sulle strade a questo aveva risposto lupus in fabola all'associazione degli ambientalisti dicendo che no non si devono tagliare gli alberi gli alberi anzi si devono piantare la signora risponde io non ho detto affatto di tagliare gli alberi ma di curare le piante che sono malate insomma c'è un batti e ribatti intorno a questa questione morale della favola è questo ci sono degli alberi che piogge siccità hanno così messo a rischio per quanto riguarda il crollo delle scarpate il lavamento delle scarpate dove si affondano le radici e insomma la situazione dovrebbe essere almeno controllata per verificare se veramente ci sono dei rischi passiamo alla cronaca eroina e cocaina in auto un blitz dei carabinieri sicurezza il bilancio dell'attività nell'ultimo weekend ebbene nel parcheggio del Fano Center è stato trovato un giovane con un giovane un 27enne fanese che aveva con sé 10 grammi di eroina circa 15 dosi e 2 di cocaina è stato individuato in un'auto che era parcheggiata in disparte rispetto alle poche auto quel giorno non c'erano molto auto nel parcheggio del Fano Center e questa auto isolata ha messo in sospetto i carabinieri i quali si sono avvicinati hanno subito notato che il giovane aveva reagito con un certo nervosismo e quindi poi hanno proceduto alla perquisizione e hanno trovato questa droga ebbene è stato è stato è stato segnalato alla prefettura quale assuntore questo 27enne vediamo ancora le altre notizie passiamo a Mondavio nido trasloco finito dal 2025 si torna in sede dopo la chiusura per lavori dell'edificio di via San Francesco il sindaco detta i tempi intanto nel presso di San Michele tariffe al palo sono aperti dunque i termini per le richieste di ammissione all'asilo nido comunale di Mondavio si tratta del castello magico così si chiama l'asilo si tratta di una buona notizia in quanto le tariffe non subiranno aumenti così come ha confermato l'assessore alle politiche e sociale Roberta Galassi biblioteca e campo da calcio pannelli fotovoltaici ovunque siamo a San Lorenzo in campo e il sindaco dell'Onti annuncia nuove buone notizie 15 mila euro di risparmio per quanto riguarda l'attività dei pannelli solari che il comune di San Lorenzo ha sistemato nei suoi edifici ad Urbino invece ad Urbino c'è un settore di studio della università che forse nessuno poteva immaginare quello della bellezza quello della estetica l'università vi fa belli master in cosmetica attivato pensate quest'anno all'università e riguarda tutti gli aspetti legati allo sviluppo dei prodotti docente Luca Casettari e c'è anche una start up collegata una start up dei giovani che può così evidenziare delle buone prospettive di carattere lavorativo ebbene la cosmetica è una passione di tanti tanti italiani una volta erano i farmacisti che realizzavano anche dei profumi dei prodotti per la pelle una volta nel medioevo addirittura erano i medicisti quelli che insomma si dilettavano o si interessavano poi di erboristeria di medicina alternativa insomma facevano le cose manipolando proprio con le loro mani i prodotti della terra ebbene ora la cosa è molto più sofisticata ovviamente tutta scientifica e l'università abbraccia anche questo settore nuova palestra nuova palestra per l'istituto raffaello il consiglio comunale di urbino ha approvato una variante parziale al piano regolatore per permettere la costruzione della palestra a servizio dell'istituto raffaello quindi una nuova struttura in più sanità tutte le richieste dell'alto monte feltro dal primo intervento a sasso corvaro alle specialità ambulatoriali di macerata feltria all'assistenza domiciliare cosa vogliono i sindaci ebbene i prossimi mesi saranno fondamentali per ottenere per fare per ottenere il punto di primo intervento nel struttura medica di sasso corvaro un punto che sarà comprensivo di una diagnostica operativa tipo esami del sangue ecografia radiografia eccetera e poi anche un una possibilità di avere 40 posti letto per attività di riabilitazione a santo stefano di macerata feltria con un budget adeguato che lo permetta insomma possibilità per le famiglie di usufruire di questo servizio a Fossombrone arrivano altre quattro telecamere con il targa system per rilevare appunto non solo questioni di ordine di viabilità ma anche di ordine pubblico in tutto saranno 21 gli occhi digitali sulla città gli ultimi installati per leggere le targhe infine quattro collocati nel corso in via Battisti non per fare multe ma a fine di sicurezza lo ha puntualizzato il vice sindaco Michele Chiarabilli e poi è il momento in cui Fossombrone si inaugura il murales dedicato a Bucci Bucci e il giro d'Italia aveva fatto degli schizzi su questa corsa ora questi schizzi vengono riprodotti in un grande murales nelle case popolari autori sono due artisti Andrea Larocca ed Erika Cogato che lo hanno realizzato sul fianco delle case popolari che si affacciano sul piazzale Giansanti ebbene questo è il resto delle Carlino diamo un'occhiata rapidamente anche al Corriere Adriatico dove l'apertura è dedicata alle polveri sottili sappiamo che in questi giorni è venuta la ribalta in tutta Italia il problema delle polveri sottili l'inquinamento in modo particolare nella Valle Padana noi siamo a margine alla Valle Padana ma anche noi abbiamo subito gli effetti di queste alte pressioni che hanno sollevato nell'aria queste micidiali polveri sottili che minano la sanità dei nostri polmoni ebbene che si sia fatto poco in questo settore lo afferma Luciano Benini di Bene Comune ma Luciano Benini è stato ed è anche un competente per quanto riguarda la situazione ambientale ha passato una vita di lavoro all'ARPAM è stato un tecnico che ha così sempre controllato la situazione ambientale e quindi evidenzia come la situazione sia problematica anche nel Fanese dall'inizio dell'anno al 23 febbraio scorso i valori medi di PM10 e più ancora terribili quelle delle PM2.5 sono stati rispettivamente di 40,3 microgrammi per metro cubo con 15 superamenti dei 50 che a fine anno non devono essere superati i 50 sono tollerati a 32,5 microgrammi metro cubo che a fine dell'anno dovrà risultare sotto i 20 microgrammi metro cubo questi sono i limiti della legislazione italiana ma da parte dell'organizzazione mondiale della sanità quella insomma che ci sovrasta questi limiti dovrebbero essere ancora più ristretti dovrebbero essere ancora più moderati rispetto appunto questo permissivismo insomma la situazione di intervenire non può essere lasciata sotto gamba e poi ieri è stato presentato invece il programma per la festa della donna dell'8 marzo una festa che quest'anno viene inserita nella programmazione di Fano nell'ambito della capitale nazionale della cultura che va dal 4 al 10 marzo quindi l'8 marzo è compreso ebbene ci sono tre iniziative collegate dall'ambiente marinaresco dalla Maria risorta si inizia nel pomeriggio nel foyer del teatro della fortuna con la presentazione di una nuova edizione di Maria risorta una nuova edizione curata da Francesca Tombari della libreria Mondadori e poi dallo storico Daniele Diotallevi ci sarà anche l'assessora Sara Cucchiarini che ha insomma che ha fatto da tramite per la realizzazione di queste iniziative dell'8 marzo e l'editore Nicolás Ciufferri e poi invece in serata alle ore 21 sempre in teatro ci sarà una rappresentazione da parte del coro polifonico Malatestiano di uno spettacolo intitolato Storie d'amore e di mare narrazione in testi e musica che vedrà Carlo Simoni il grande attore e regista affiancato appunto dal coro il cui presidente Giuseppe Franchini ha firmato a quattro mani l'adattamento insieme all'attore e poi c'è un'altra iniziativa che avrà luogo però il 16 marzo quindi la settimana dopo sempre in teatro dove gli studenti del liceo Torelli Nolfi e Apolloni insieme realizzaranno la messa in scena della Maria Risorta insomma un spettacolo di cui abbiamo visto un'anteprima in passato di fronte alla Darsena Borghese primarie primarie 10 seggi per votare ma dove è ancora da decidere il 4 marzo ci sarà la presentazione del manifesto del centro-sinistra oggi riunione dei progressisti i progressisti cominciano a così a convocare degli incontri in tutti i quartieri per presentarsi presentare il loro programma presentare il loro candidato insomma stanno incidendo sulla campagna elettorale e poi abbiamo anche sul Corriere la nota della Lega che denuncia ritardi per la distribuzione dell'erba artificiale del vallato siamo in conclusione possiamo concludere con l'esito con il proseguimento anzi delle indagini che le forze dell'ordine stanno effettuando per scoprire gli autori dell'esplosione del Bancomat della filiale della BCC di Fenile esplosione del Bancomat acquisite le immagini delle Spycam immagini molto significative per una conclusione felice delle indagini e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto per l'ascolto a risentirci per l'ascolto